Il gas sarà l'ultima fonte fossile che abbandoneremo, perché è la meno inquinante, perché abbiamo le garanzie dei quantitativi. Intervenendo alla prima assemblea annuale di Proxy Gas, l'associazione nazionale Industrali Gas, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha così rassicurato i rappresentanti delle compagnie presenti. Deve essere la cintura di sicurezza appaiata alle fonti rinnovabili che ci permettono, potranno permettere di raggiungere quelli che sono gli obiettivi più sfidanti che abbiamo di fronte. Diciamo che, naturalmente, io ripeto, abbiamo la crescita dei rinnovabili affiancato da una decrescita delle fonte fossili, dove la decrescita delle fonte fossili deve partire dall'abbandono del carbone. Noi produciamo ancora energia elettrica col carbone, successivamente dalla parte di petrolio e il gas, con la sua capacità di essere… il petrolio era detto l'oro nero, l'oro di oggi è il gas. La congiuntura che stiamo vivendo, però, ci porta a riflettere sul bisogno assoluto di avere una condizione di sovranità energetica, perché la dipendenza dall'estero ci rende fortemente vulnerabili, la dipendenza dall'estero è un freno allo sviluppo, forse, mi ripeto, ma è come andare avanti col freno a mano tirato. E questa è la condizione congiunturale, la congiuntura. Ma allo stesso tempo noi ci dobbiamo porci, ci poniamo su un altro tipo di ragionamento anche. La sfida che abbiamo davanti, la grande opportunità dovuta a una negatività, il cambiamento quindi del quadro geopolitico che vedeva le nostre fonti di approvisionamento, in particolare da nord o da nord-est, ci porta oggi ad avere quindi questa centralità, centralità geografica nel Mediterraneo, centralità che naturalmente apre tutta una serie di ragionamenti diversi, di rapporti di collaborazione e di ricerca di nuove fonti, di nuove fonti da approvigionamento. Il gas dunque è la fonte più strategica dell'attuale piano energetico del governo Meloni, a dimostrarlo la politica di accordi e intese che l'esecutivo sta stringendo con i paesi produttori di gas in Asia e Africa. Due giorni fa il presidente del Consiglio dei Ministri Meloni, unicamente Claudio Descalzi, il presidente di Confindustria sono stati in Algeria con l'obiettivo di incrementare quello che il rapporto che avevamo stretto con l'Algeria, stretto il nostro paese con il governo Draghi circa un anno fa e quindi portarci naturalmente ad aumentare le quote che prendiamo dall'Algeria. Quindi la filiera del gas oggi come oggi è il principale motore energetico del paese. Dal gas dipende lo sviluppo del nostro paese e man mano che si andrà avanti naturalmente caleranno gli usi degli altri fossili rimanendo il gas su quel percorso che è poi il percorso che deve portare al 2050, alla neutralità energetica e che deve accompagnare quella che viene definita come transizione energetica nazionale. Noi dobbiamo entro il 23, entro breve, partendo adesso, partendo un mese fa, portarci a riformulare il piano nazionale integrato di energia e clima e su questo dobbiamo determinare e tracciare quello che è il nostro percorso perché da quello dipende anche poi l'azione pratica, l'azione normativa, le scelte di ciò che possiamo dichiarare strategico o non strategico. Di fatto cosa stiamo facendo? Bene, ho citato l'Algeria con la presenza dei giorni scorsi che deve portarsi a sfiorare i 30 miliardi di metri cubi nel prossimo anno come provenienza, ma nel contempo ci sono rapporti con l'Egitto, con valutazioni che possono essere destinazioni ai rigassificatori o collegamenti con Poseidon, questa è una valutazione che dovrà essere fatta, ma fondamentalmente, e tutto questo però non solo sulla contingenza diventa un disegno di lungo periodo, va a legarsi a questo cambiamento di ruolo, cioè sicurezza nazionale vuol dire essere sicure a livello di paese, ma un nuovo filone si apre, se siamo centrali possiamo diventare il luogo di distribuzione e il luogo di distribuzione diventa un settore di attività nazionale, questo significa il tema di diventare l'hub del gas, cioè in questo caso il gas arriva da sud e noi naturalmente ci carichiamo di distribuirlo, di venderlo, di farlo transitare incassando il pedaggio, questo è il significato di avere una centralità geopolitica a livello europeo. E' chiaro che per fare questo noi dobbiamo essere sicuri, per essere sicuri fortunatamente oggi abbiamo il TAP, perché se non avessimo i 10 miliardi circa dei metri cubi del TAP sarebbe stata molto seria per capirci, sarebbe molto seria. Stiamo andando avanti e dobbiamo raggiungere l'obiettivo di prima sicurezza con Piombino e Ravenna, prima Piombino poi Ravenna, dobbiamo fare i ragionamenti rispetto al sud, ragionamenti, c'è Gioia Tauro e Porto Empedio, ma l'aver ribaltato la provenienza al sud per questa nuova missione che abbiamo, significa che dobbiamo avere anche il percorso per portarla a nord e da questo la linea adriatica è fondamentale. Noi non possiamo prescindere da un nuovo tubo da sud a nord, perché altrimenti rimaniamo inchiodati ai 125 milioni di metri cubi al giorno e possiamo fare tutti i gargarismi che vogliamo, ma la sostanza, i numeri sono quelli e il tubo è quello. Possono spingere, poi qualcuno dice possiamo aumentare la pressione, ma oltre a un certo livello con la pressione poi si arriva, adesso non ricordo se la pressione determina il collasso o l'infarto, perché io di medicina capisco poco, ma certamente non funziona. Questo dobbiamo porcelo e ecco perché diventa strategico con tutti gli studi, gli approfondimenti, le garanzie su tutti i territori, ma questi 425 chilometri devono essere assolutamente fatti e fatti in fretta peraltro. Questo è il dato e naturalmente su questo aggiungiamo che da sud l'accordo di un paio di giorni non sono ci porterà a un nuovo gasdotto rispetto al nord Africa, al fatto che sul nuovo gasdotto è stato citato l'idrogeno, ricordiamoci che il nord Africa può essere una grande area di produzione anche di idrogeno, perché c'è il deserto, c'è il sole, ci sono tutta una serie di condizioni dove può essere. E peraltro devo dire che su questo io apprezzo particolarmente il fatto che collegato possa esserci anche un cavo elettrico sottomarino che va ad aggiungersi al ragionamento che Terna, peraltro con un contributo dell'Unione Europea rilevante, sta avviando per la costruzione unitamente alla Tunisia. Nulla aggiungo rispetto ai nostri giacimenti, qui parlo in un'assise che conosce a memoria il quadro, è chiaro che noi non arriviamo a davvero concludere, è chiaro che c'è una sfida poi, che è una sfida nazionale, è stato citato il biometano, noi utilizziamo il PNRR, il decreto è di pochi giorni fa, che ha come indirizzo proprio la produzione del biometano, ci mettiamo 2 miliardi di PNRR, non una cifra irrilevante, ed è una sfida che deve portarci già nel corso del 2023 ad arrivare ad almeno 600 milioni di metri cubi, con l'obiettivo al 2026 di superare i 2 miliardi, il PNRR prevede 2 miliardi e 300 milioni di metri cubi. Perché è una sfida questa? Perché il differenziare le fonti di provenienza del gas, se parliamo geograficamente, il differenziare i soggetti dai quali si acquista, quindi non dobbiamo cascare dalla padella alla braccia, perché prima prendevamo il 30% da una parte, adesso la prende il 40% dall'altra, quindi questo è un percorso, sono delle fasi, ma la pluralità dei fornitori è una garanzia, ma anche la pluralità di tipo di prodotto, in questo caso il biometano può avere un'influenza notevole sul sistema produttivo nazionale, sul sistema dell'automotive, che è uno dei grandi sistemi di consumo. Noi siamo il secondo paese d'Europa nel sistema dell'automotive, nel sistema dei veicoli, e abbiamo 280 mila occupati diretti, tanto per capirci, ci girano un milione e 250 mila occupati, ma abbiamo un'esperienza formidabile nella produzione di quelli che sono i motori a combustione non elettrici. Anche lì la diversificazione può avere un'importanza. Il mantenere modelli di motore che non sono il motore elettrico, il non avere solo il motore elettrico, e l'avere delle fonti dei carburanti, in questo caso come il biometano, che sono non di origine fossile, è un modo di diversificare e di mantenere alcune filiere produttive importanti di cui noi abbiamo una storia, una conoscenza, un know-how che altri paesi non hanno. Proprio per concludere, io credo che questo governo non ha scelto il termine sicurezza energetica come uno slogan, ma credo che sia ormai chiaro che è una visione prospettica di paese che ha come obiettivo proprio la doppia gamba, essere padroni del nostro destino e al fianco dell'essere padroni del nostro destino creare un nuovo filone di sviluppo del destino del nostro e delle generazioni future.